Allora, voglio commentare un articolo che apparso all'interno del sito voxeo.org intitolato Temperature and Local Manufacturing Concentration di Giacomo Ponticelli, Quipping Zoo e Stefan Zeume del 9 ottobre 2023, ovvero l'articolo affronta il tema della relazione tra la temperatura e la concentrazione del settore industriale e manifatturiero a livello locale. Gli autori sostanzialmente dicono che la crescita delle temperature negli Stati Uniti, extreme weather events in the US in 2023, quindi la crescita di eventi estremi dal punto di vista meteorologico negli Stati Uniti nel 2023, hanno incrementato e ulteriormente accelerato il global warming. E ovviamente questo ha un impatto sull'industria statunitense, sulla manifattura statunitense. C'è stato un periodo in cui gli Stati Uniti hanno sperimentato una lunga crescita delle temperature medie tra il 1980 e il 2010 e diciamo una piccola riduzione e hanno visto in questo periodo tra il 1980 e il 2010 c'è stata una riduzione del numero di piccoli stabilimenti industriali mentre il numero dei grandi stabilimenti industriali è rimasto sostanzialmente inalterato. E questo significerebbe, secondo gli autori, che large plants, che sono gli stabilimenti industriali più grandi, may be better equipped, cioè hanno migliori probabilità di adattarsi nel lungo periodo alle modificazioni che sono indotte dal climate change e quindi possono giocare un ruolo molto positivo nel sostenere l'occupazione locale in quelle regioni che sono più coinvolte dai cambiamenti climatici. Questa è la tesi degli autori. Ovviamente il cambiamento climatico ha una serie di impatti che vanno sulla salute, le outcome sociali, il political debate, ha messo in evidenza questi temi che sono diventati anche oggetto di una serie sterminata di articoli e di reportistica scientifica ed anche sono diventati il centro di una attenzione sempre crescente da parte dei media. Ovviamente ci sono rischi per la salute e ci sono rischi per i lavoratori, per le famiglie. Addirittura c'è un rischio per il debito pubblico in Europa e un rischio per il prezzo delle case in Italia e quindi ci sono tutta una serie di modificazioni che bisogna introdurre nel sistema economico per fare in modo che ci siano degli aggiustamenti verso questi rischi. C'è stato nel 2023 un record di temperature molto alte a luglio che inoltre c'è stato il quarto febbraio più caldo nei record e inoltre un evento record di 15 disastri basati sul clima e sul aspetto meteorologico ciascuno dei quali è costato agli Stati Uniti più di un miliardo di dollari in danni tra gennaio e luglio del 2023. Quindi 15 miliardi di dollari di danni prodotti da eventi climatici estremi negli Stati Uniti. Il problema è che nel 2023 si è semplicemente verificata una continuazione di un andamento all'accelerazione del global warming che era iniziato precedentemente. Quindi diciamo questo fenomeno continua, potrebbe, lasciano intendere gli autori, potrebbe peggiorare. E sostanzialmente dal 1980 al 2010 la temperatura mediana è cresciuta nelle contee degli Stati Uniti di circa lo 0,6 gradi centigradi e 9 su 10 contee hanno incrementato la propria temperatura media. Quindi questa dimensione di crescita della temperatura dovrebbe continuare. Qui c'è un grafico che fa riferimento, fa vedere come proprio a partire diciamo proprio dal 1980 c'è stata questa crescita positiva anomali, cioè il fatto di una crescita della temperatura è significativamente sopra la media. Perché invece precedentemente, cioè se noi prendiamo il periodo del 1900 fino al 1980 appunto, il fenomeno prevalente era negative anomali. Cioè dal 1900 al 1980 c'era una prevalenza di medie negative rispetto all'andamento storico. Invece a partire dal 1990 al 1980 in poi c'è stato il contrario, una crescita della temperatura rispetto alle medie. Ovviamente gli autori dicono che tutto questo ha delle implicazioni per il sistema manifatturiero statunitense e nel breve periodo aumentare l'aumento del numero dei giorni caldi che qui vengono misurati in base al fatto che ci siano una temperatura superiore a 18 gradi può portare ad una crescita dei costi energetici e ad una riduzione della produttività soprattutto localizzata negli piccoli stabilimenti industriali. Invece le temperature più alte scoraggiano la creazione di nuovi stabilimenti produttivi però non riducono la produttività e l'efficienza negli stabilimenti produttivi di grandi dimensioni che sono già esistenti. Quindi in sintesi cosa succede? A seguito dell'aumento delle temperature locali agli stabilimenti produttivi, gli stabilimenti produttivi di piccole dimensioni chiudono, non si creano nuovi stabilimenti produttivi di grandi dimensioni, però gli stabilimenti di grandi dimensioni che erano preesistenti continuano a produrre e ad operare. Nel lungo periodo gli stabilimenti produttivi di piccole dimensioni chiudono, si crea quindi una disoccupazione, però una parte di questa disoccupazione viene reallocata presso le aziende di medio-grande dimensioni. Quindi le aziende, le industrie, le sedi industriali di grandi dimensioni esistenti assorbono parte della disoccupazione prodotta dal cambiamento climatico sulle aziende manifatturive di piccole dimensioni. Ovviamente gli autori si chiedono come mai c'è questo fenomeno e concludono che le aziende di grandi dimensioni hanno maggiori possibilità, sono più attrezzate per combattere il climate change perché hanno migliore accesso alla finanza, possono spostare la produzione in più sedi perché generalmente un'azienda che ha un grande stabilimento industriale potrebbe averne generalmente anche degli altri e quindi se c'è un problema in uno stabilimento industriale riescono a spostare la produzione in altri stabilimenti e poi, dice l'autore, anche le abilità manageriali delle aziende che sono rinvenibili nelle aziende di grandi dimensioni sono assai migliori di quelle che sono presenti nelle aziende di piccole e medie dimensioni. Gli autori utilizzano un dataset che in realtà è un combinato disposto tra il census of manufacturing firms e l'annual survey of manufacturers e poi lo mixano questi due database ad un terzo database, longitudinal business database, quindi usano tre dataset. Il periodo analizzato va dal 1950 al 2019 in modo tale da tenere in considerazione quelli che sono le modificazioni del tempo, diciamo, della temperatura. C'è dati che sono proposti, qui c'è anche la citazione della fonte, sono dati presenti sulla piattaforma Prism Climate Group. Quali sono gli effetti di breve periodo nel sistema industriale? Ci sono due grandi risultati. innanzitutto i costi che sono associati alla crescita della temperatura e la produttività reagiscono contemporaneamente agli shock, che significa che sostanzialmente energy spending tende a crescere. Cioè più aumenta la temperatura, più aumenta il consumo energetico. Però plant productivity, cioè la produttività misurata a livello di sede industrie, diminuisce. Quindi praticamente se aumenta la temperatura, quindi se si creano, se il numero dei giorni con una temperatura superiore a 18 gradi aumenta di 100 unità all'anno, si crea una riduzione della produttività, che è, diciamo, compresa tra il 4% ed il 7%. Questo è, diciamo, l'effetto che si crea subito. Ovviamente queste sono regressioni che sono state realizzate dalle autori, diciamo, e si crea questo effetto. Però questo è vero soltanto nelle piccole aziende, nelle piccole impianti industriali, perché i grandi impianti industriali rimangono sostanzialmente, diciamo, non vengono toccati. Quindi c'è un confronto qui tra impianti industriali che occupano meno di 20 dipendenti e impianti industriali che occupano più di 20 dipendenti. Allora, si vede che il costo dell'energia per gli impianti industriali che occupano meno di 20 dipendenti tende a crescere con la crescita del numero dei giorni in cui la temperatura supera i 18 gradi. Invece lo stesso costo rimane abbastanza costante per le aziende che superano i 20 dipendenti. Per quanto riguarda invece la produttività, misurata nel termine di Total Factor Productivity, si verifica una riduzione spiccata per le aziende di piccole dimensioni, ovvero con meno di 20 dipendenti, ed una invece più moderata riduzione per le aziende che hanno più di 20 dipendenti. Quindi comunque una riduzione c'è della produttività. Se poi si sommano entrambi gli effetti, insomma diventa diventa pesante. Quindi diciamo, in realtà le aziende di grandi dimensioni a guardare questi grafici, le aziende di grandi dimensioni non è che sono indifferenti nel senso della produttività, la crescita del numero dei giorni superiore a 18 gradi, semplicemente reagiscono meglio e hanno una minore riduzione della produttività. Perché questo succede? Ovviamente diciamo perché le aziende di grandi dimensioni hanno più possibilità di sopravvivere. Quello che si creerà nel lungo periodo è che praticamente le aziende di piccole dimensioni scompariranno a livello locale e ci sarà una maggiore concentrazione dell'attività industriale nei grandi gruppi, cioè nelle aziende che occupano più di 20 dipendenti. Questi grandi gruppi riusciranno ad operare anche a seguito di una crescita della temperatura e quindi di effetti di climate change. Innanzitutto le motivazioni che possono spiegare questo fenomeno consistono nel fatto che diciamo molte aziende sono multi plant firms, cioè hanno più stabilimenti e quindi sostanzialmente possono fare l'edging che significa che se uno stabilimento viene colpito per esempio da un uragano magari queste aziende ne hanno altri di stabilimenti in altre aree dove non c'è stato nessun problema a livello di disastro diciamo di di disastro naturale e quindi spostano la produzione in quella in quell'area e questo può provocare una continuità nella produttività che invece un'azienda di piccole dimensioni che ha soltanto uno stabilimento non può realizzare. Inoltre le aziende di grandi dimensioni possono avere accesso all'external finance che gli aiuta diciamo a diciamo a investire anche in tempi di crisi e poi hanno anche dei manager che sono più diciamo abili nel fare il management appunto delle delle aziende sottoposte a climate risk. infine le aziende di grandi dimensioni quindi diciamo si adattano meglio ai cambiamenti climatici di lungo periodo e aiutano a preservare la occupazione locale e quindi limitano la migrazione intraregionale che potrebbe essere indotta da climate change. Tuttavia ci potrebbe essere un effetto negativo sulle radical innovation a causa diciamo del fatto che sostanzialmente l'imprenditorialità soprattutto per gli innovatori che sono spesso delle piccole e medie imprese potrebbe essere compromessa nelle regioni che saranno maggiormente colpite da climate change. Cosa possiamo dire di questo articolo? Beh questo mi sembra veramente un ottimo articolo non c'ho niente a dire mi sembra veramente fatto bene, scritto bene una buona ipotesi di ricerca, dei buoni dati, una buona metodologia anche le conclusioni sono abbastanza diciamo hanno senso è un articolo veramente fatto bene ma questo diciamo lo sapevamo già perché questo ripetiamo l'abbiamo detto altre volte però è un sito dove veramente pubblicano dei grandissimi economisti sì però il problema è anche un altro cioè ovviamente diciamo il climate change distruggerà moltissima capacità produttiva però diciamo il problema è che le piccole aziende, i piccoli stabilimenti industriali generalmente diciamo offrono anche un dinamismo al sistema economico e quindi diciamo il fatto che le aziende di piccole dimensioni chiudono nelle regioni degli Stati Uniti che sono più colpiti dal climate change potrebbe comportare una riduzione non soltanto dell'offerta perché poi magari l'offerta viene integrata dalle grandi aziende però può portare una riduzione come dire della imprenditorialità, della ingenuity, dell'innovativeness cioè di quegli elementi che creano l'ingegno, la capacità di innovazione degli Stati Uniti tutti gli elementi che poi rendono l'economia degli Stati Uniti molto molto forte e in più si potrebbe ingenerare una paura una paura di fare impresa perché se poi l'imprenditore fa l'impresa che gli viene distrutta la climate change o si trova di fronte a dei costi energetici sempre crescenti quindi questo può essere un problema per gli Stati Uniti e per l'imprenditorialità negli Stati Uniti quindi noi oggi quello che possiamo dire è che probabilmente bisognerebbe fare una riallocazione centralizzata dei sistemi di produzione industriale all'interno degli Stati Uniti favorendo quelle aree che già adesso magari è noto che sono più salve dal punto di vista del climate change e questo potrebbe certamente migliorare la situazione economica produttiva ed industriale del Paese certamente tutto questo non è gratis anche la riorganizzazione del sistema industriale basato sulle condizioni del climate change è un elemento che richiede degli investimenti è costoso bisogna ridisegnare una supply chain ridisegnare un sistema di trasporti ridisegnare un sistema di logistica però ecco probabilmente siano gli stessi Stati Uniti ad individuare all'interno del proprio territorio quelle aree che magari possono essere più garantite tra virgolette da una minore probabilità di manifestazione di climate change per tutelare l'imprenditorialità e la capacità innovativa del sistema industriale statunitense questa potrebbe essere una soluzione ripetiamo sempre da valutare in base ai costi però è chiaro che come dicono gli autori 15 eventi meteorologici avversi disastrosi con un costo in termini di danni superiore a un miliardo di dollari sono un segnale evidente chiaro se questo valore dovesse ancora crescere addirittura immaginiamo aumenti di 5 unità di 10 unità potrebbe veramente creare un problema poi gli autori dicono che questi eventi si sono verificati tra giugno e luglio quindi in 7 mesi 15 eventi catastrofici da un punto di vista climatico con costi superiore a un miliardo di dollari sono numeri diciamo che impongono per questioni anche diciamo di sicurezza di interesse nazionale una riorganizzazione totale del sistema della produttività e del sistema industriale statunitense cercando nuovi luoghi cercando una nuova logistica cercando nuove linee di distribuzione che possano salvaguardare la struttura produttiva dei Stati Uniti in un periodo dove oggettivamente c'è molta pressione sulla industria statunitense e quindi diciamo preservare l'industria da cambiamenti climatici potrebbe essere una scelta strategica del paese con rilevanti spillover anche in termini strategici e di proiezione internazionale